A Bolsena, nella Cappella del Miracolo, sull'altare di Santa Cristina, c'è un ciborio del X secolo. È la pietra basaltica che salvò miracolosamente la Vergine Cristiana. Nell'anno 292 Cristina, figlia del prefetto urbano, venne presa e per ordine del genitore le fu legata al collo una grossa pietra, quindi venne gettata nel lago. Invece di trascinarla sul fondo del bacino lacustre, la pietra sostenne la Santa e galleggiando come una barca la portò in salvo sulla riva. Sulla pietra sono rimaste le impronte dei piedi di Cristina. I miracoli della pietra non sono finiti qui. Nel 1263 Pietro da Praga era in viaggio verso Roma e nutriva molti dubbi sulla verità della transustanzazione, ossia sull'incarnazione del corpo di Gesù nell'ostia consacrata. Fermatosi quindi a Bolsena celebrò la messa sul ciborio costruito con la famosa pietra di Santa Cristina e al momento della consacrazione vide cadere dall'ostia gocce di sangue che bagnarono i gradini dell'altare, il corporale e i lini liturgici. Gli indumenti macchiati del sacro sangue vennero poi portati con una processione fino ad Orvieto a Papa Urbano IV che Ivi dimorava. Il Papa l'11 agosto 1264 istituì con apposita bolla la festa del Corpus Domini. Il prodigio fu celebrato anche da Raffaello nelle stanze vaticane.